Lucio Signoretti della compagnia teatrale GAF, due serate, ma perché due serate? Perché? Perché lo scorso anno abbiamo provato, abbiamo fatto questa pazzia, proviamo due serate, abbiamo avuto un bel successo, una bella partecipazione di pubblico e allora perché non riprovare? E ci riproviamo anche quest'anno, tant'è che poi non solo riproviamo le due serate, ma portiamo in scena il sequel della commedia dello scorso anno. Allora, lo scorso anno abbiamo rappresentato una commedia che parlava dei nostri comportamenti, diciamo, durante questo periodo di pandemia, dei lockdown, le mascherine e quant'altro. Chiaramente abbiamo cercato di fare il tutto nel rispetto dell'argomento trattato, no? E ha avuto un successone. Allora, cosa ci siamo detti? Riprendiamo esattamente dove si è terminata la commedia dello scorso anno, quindi ad agosto del 2020, riprendiamo la storia, la storia si evolve, continua, abbiamo inserito nuovi personaggi e abbiamo pensato di fare questa pazzia. È la prima volta che facciamo un sequel. Anche perché poi ci vuole davvero, l'ha già detto, una certa sensibilità, perché affrontare un tema difficile come questo, con comunque l'ironia che ci fa ben sperare nel futuro, nella vita, che tanto supereremo questa fase così difficile, non è sicuramente una cosa semplice. Non è una cosa semplice, ci siamo riusciti lo scorso anno e speriamo di ripeterci anche quest'anno, di essere leggeri, di portare buon umore e di trattare gli argomenti nel giusto modo. Ma ci siamo riusciti, siamo ottimisti e soprattutto voglio dire, questa commedia è un sequel però ha una fine, quindi non ha un finale aperto come era quello dello scorso anno, ma un finale chiuso perché non la vogliamo più ripetere, vogliamo parlare di argomenti diversi, di altra natura e quindi vuole essere anche di auspicio questa commedia. Comunque chi si vuole divertire deve venire il 23, il 24 luglio, qui all'Arena BCC perché noi promettiamo divertimento, buon umore, risate e noi nelle prove, stiamo facendo le ultime prove, ci stiamo divertendo parecchio perché noi, come dico sempre, siamo i primi spettatori esigenti di noi stessi perché se non ci divertiamo noi non riusciamo poi a trasferire al pubblico quella spontaneità, quel divertimento, quella complicità che c'è fra di noi.